Un settore invisibile come quello del pubblico esercizio, ma altrettanto fesi in quelli che sono molti aspetti che hanno accompagnato i provvedimenti governativi, per cui un aspetto di visibilità e di voce a quelli che sono i bisogni, i drammi, le preoccupazioni che il settore da tempo sta subendo, e dall'altra l'aspetto importante è quello di valutare, di programmare la ripartenza del nostro settore, in sicurezza, con consapevolezza dei rischi che comunque permangono, ma anche con la convinzione che si possa fare, ovviamente anche con la necessaria gradualità, perché ci sono evidentemente le possibilità di poterlo fare in determinate aziende, partendo per esempio da chi ha la possibilità di spazi esterni, per poi passare a chi ha la garanzia di assicurare il distanziamento con il servizio al tavolo, per poi nel più breve tempo possibile riaprire completamente il nostro settore.